benvenuto su host academy questa è la prima lezione integrale di un corso completo se trovare l'argomento interessante puoi attivare l'abbonamento annuale con il quale non solo avrai accesso al video corso completo ma anche ad oltre mille video lezioni con test finali e certificati di frequenza in descrizione troverai un'offerta a te dedicata limitata nel tempo buona formazione le impostazioni fuso orario sono presenti nella configurazione globale tab server l'opzione fuso orario server permette di definire il fuso orario predefinito del sito mantenendo l'opzione universal time coordinated si utilizza a livello predefinito il fuso orario di londra oppure indichiamo un altro fuso orario ad esempio roma si può personalizzare il fuso orario del singolo utente a livello amministrativo accedendo nelle impostazioni dell'account nel tab impostazione di base oltre a questo puoi anche permettere che la modifica del fuso orario sia apportata dall'utente stesso sul lato pubblico del sito l'utente può personalizzare il fuso orario del sito accedendo nelle opzioni di base del proprio profilo alla voce fuso orario occorre che sia presente la voce di menu profilo utente o modifica profilo utente con la sezione impostazione di base attiva per mostrare questa sezione occorre abilitare nell'opzione di configurazione del componente utenti l'opzione parametri utenti lato pubblico spero che questa prima lezione sia stata di tuo gradimento ti ricordo che su host trattino academy punto it troverai il video corso completo insieme ad oltre mille video lezioni sui più disparati argomenti dal digital marketing a come costruire un sito web o un sito e commerce con l'abbonamento annuale hai quindi accesso a tutte le video lezioni e a tutte le nuove che andremo a creare nel futuro in descrizione troverai un link con un'offerta dedicata a te limitata nel tempo approfittane buona formazione